ciao fregoline nuovo video allora questo è un unboxing spero che si dice così vi faccio vedere praticamente quello che c'è dentro nelle scatole della telecamera e più o meno di cosa come funzionano più o meno perché poi la seconda parte vi farò vedere ovviamente come funzionano veramente perché dato che le telecamere sono collegate diciamo nei reparti fuori io ne ho quattro una e quella che ho nella non so se lo vedete dov'è qua no dove dove l'ho messa no forse non è qua e dall'altra parte sì mi sembra di là vabbè non la vedete comunque è un è lì è una telecamera interna dove praticamente fa 360 gradi che potete girare quella sta solo dentro in casa non può stare fuori ho anche l'altra scatola ma poi nella nuova casa vi spiegherò l'installazione delle telecamere come si installano come funzionano tutte praticamente le quello che c'è da sapere invece adesso vi farò vedere le scatole e vi parlo brevemente di queste telecamere di come sto trovando perché ormai sono passati allora con questa se non sbaglio più di tre mesi da quando da quando ce l'ho invece queste due sono più di cinque mesi che ce l'ho quasi un anno li sto testando li sto provando invece l'altra che non ho la scatola che poi vi farò vedere che questa qua che non so dove forse a forse questa qui vicino al pupazzo non so se la vedete quella lì c'ho l'altra scatola l'altra scatola dentro ma poi ve la farò vedere comunque allora vi parlo prima di questa telecamera allora le telecamere sono prese su amazon sono state prese su amazon questa è la scatola allora questa telecamera ce l'ho sul comodino però non ciò che farvelo vedere ma tanto poi nella seconda parte del video vi farò vedere la telecamera come si deve allora questa dato che non l'ho ancora diciamo attaccata messa perché non so dove metterla allora alla fine ce l'ho per per scorta questa qui è la telecamera z top in questa questa qui dura 2 barra 3 settimane di batteria perché queste telecamere che ho preso io tranne quella lì allora io parlo per il momento di queste tre telecamere queste due che sono uguali e questa che è diversa l'altra più avanti vi parlerò questa è a batteria per cui la puoi lasciare sia in carica nella presa sia con la batteria la carichi dopo allora in teoria dovrebbe durare un mese la batteria ma a me non mi è mai durato un mese è durato massimo 2 barra 3 settimane pochissimo per cui mi sono trovata male su questa telecamera questa l'ho pagata sui 60 70 60 70 euro in promozione perché tutte le telecamere che ho preso io erano in promozione vi faccio vedere dentro praticamente che cosa trovate in più vi dico anche che questa va bene sia queste tre sono da esterno non da interno sono da esterno per cui quando mettete fuori la telecamera protegge sia dalla neve che dalla pioggia che dal sole allora scatola ve la faccio vedere veloce così il nostro video non dura tanto avete dentro le istruzioni della telecamera dove dentro vi spiega da installare un'applicazione l'applicazione adesso ve la metto qua vi faccio vedere praticamente l'applicazione e quello in cui in cui vedete la telecamera con questa applicazione qua però basta installarlo scaricare dove voi con questo con questa app che la mettete sul sul telefono praticamente riuscite a vedere tramite telefono la telecamera poi dentro in questa telecamera solo in questa trovate questo bigliettino dove vi regalano tre cose e voi potete scegliere quale tre cose potete regalare prendere dato che non tutti la ricevono questa carta io ve lo dico ovviamente devi poi lasciare una recensione positiva e scegliere uno di questi tre regali e ovviamente io ho scelto il pannello solare il pannello solare io ho scelto che adesso ve lo faccio vedere potevi scegliere la telecamera da interno o i 64 giga per cui il pannello solare è questo qua che mi hanno regalato in omaggio questa è la scatola c'è il supporto io l'ho attaccata fuori perché così in estate quando fa caldo col sole si ricarica la telecamera senza che io tutte le volte devo stare a attaccare il cavo per cui questo è il regalo che mi hanno dato solo in questa telecamera però non la ricevono tutti qua dentro c'era la telecamera che poi vi farò vedere poi trovate le viti da fissare al muro questo non so che cos'è questo invece per levare via per resettare la telecamera quando non funziona o succede qualcosa e basta e poi dentro trovate la telecamera col cavo da caricare queste sono le cose che trovate in questa telecamera qua perché dato che sono diverse non trovate tutte le cose uguali in poche parole invece le altre due che sono queste ne ho presi due uguali perché queste le batterie durano di più la batteria di queste telecamere della Niche Gig durano un mese voi caricate la batteria se i movimenti non sono tanti dura anche un mese infatti adesso io ho attaccato le due telecamere una fuori e l'altra di là e in poche parole con questa in un mese riesco a non caricare la telecamera ogni volta vi faccio vedere cosa c'è nella scatola in una perché tanto alla fine sono uguali questa l'ho pagata 55 euro invece di 60 in promozione dentro stessa cosa libricino dove vi spiega di installare l'applicazione con il code per il telefono e poi la potete collegare la potete attaccare al muro perché ha le viti anche lei telecamera che l'ho appesa allora in una per privacy non vi posso far vedere ovviamente per privacy nell'altra invece dato che è fuori dalla porta di entrata e non c'è nessuno posso farvela vedere l'ingresso invece fuori dove riprende la mia macchina che c'è la targa eccetera e le altre macchine per privacy non ve la posso far vedere per cui verrà oscurato ma vi farò vedere solo come funziona più avanti poi questa telecamera qua allora funziona con la batteria il microfono si sente da dio è in HD tutte e tre le telecamere sono infrarossi per cui lo puoi vedere nel buio quando è buio voi vedete tutto visione notturna mettete dentro la sim ovviamente io ho tutte e due tutte e due di 64 giga di schedina le ho messe tutte e due di queste l'altro no perché ce l'ho lì è resistente acqua pioggia, neve e sole le batterie il wifi ovviamente se non c'è il wifi la telecamera non funziona questo è quello che posso dirvi perché poi più avanti quando dovrò installare perché questa telecamera ce l'ho nella casa dei miei poi quando mi trasferisco nella mia casa nuova dovrò sincronizzarle nella vecchia cioè nella nuova casa con il wifi nuovo non con il wifi dei miei per cui poi vi farò vedere il procedimento dell'installazione delle telecamere eccetera non ve l'ho detto prima di quando le avevo comprate perché le volevo attestare perché se poi una telecamera non mi piaceva la volevo mandare indietro solo che poi è passato troppi mesi sono passati forse dopo due mesi che ho avuto l'idea di che volevo mandarla indietro alla fine era troppo tardi perché giustamente hai solo 30 giorni per restituirla e io poi alla fine non l'ho fatto mi sono pentita di quella di questa qua che di non mandarla di non averla mandata indietro e anche queste perché sinceramente con i movimenti così non è che siano tanto eccellenti però ve lo spiegherò poi nella nuova casa vi spiegherò tutto per segno tutto quello che volete capire ah fatemi voi delle domande qui sotto in questo video così quando farò il video e vi farò vedere la telecamera eccetera come funziona l'applicazione eccetera almeno così vi rispondo nella seconda parte del video e vi dirò ok allora questo ragazzo mi ha chiesto come installarlo con il wifi io poi vi spiego piano piano come diciamo installarlo fatemi diciamo delle domande sulle telecamere se volete sapere qualcosa fatemelo sapere qui sotto nei commenti allora dato che la mia idea era prendere un'altra telecamera che dura di più di questi perché c'è un'altra telecamera che dura due anni di batteria quando metti le telecamere all'esterno scusate e voi non avete diciamo le prese per attaccarla preferisco avere un pannello solare o una telecamera con la batteria che può durare che ne so due anni come quella che c'è su Amazon e vorrei prenderla così almeno sei a posto per un po' non l'ho ancora presa perché sto ancora valutando quante telecamere devo prendere per la nuova casa per essere uno sicuro di quello che circola in giro intorno perché nelle mie zone diciamo nelle mie zone nella zona che poi andrò che è un po' lontano da qui per modo di dire ci sono i ladri arrivano i ladri a casa delle persone per fortuna qua non sono mai arrivate però dato che ho un po' di paura specialmente che sarò da sola preferisco mettere le telecamere senza filo così almeno loro non possono diciamo staccare la presa oppure tagliarla perché queste vanno a batteria per cui per essere sicura preferisco prendere un po' di telecamere ovviamente vabbè adesso ne ho quattro non so se ne prenderò altre due dovrò valutare vediamo perché poi se i miei vogliono che le lascio qua le due telecamere poi le lascerò qua se per caso vogliono che le lascio qua se no me le prendo io e me le porto a casa e le piazzerò poi dopo vi farò vedere dove le piazzerò comunque detto questo spero che questo vi sia piaciuto fatemi sapere se voi avete acquistato queste telecamere se volete acquistarle qualche domanda e se volete la seconda parte dove appunto vi spiegherò tutto persino e per segno questo era un video così così unboxing diciamo per modo di dire perché ovviamente non è nuova ma però sono da pochi mesi che ce li ho detto questo io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando like un commentino qua sotto e iscrivetevi al canale sto guardando che c'ho qualche insetto vabbè detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ciao